viola come il mare 2 arriva il primo trailer ufficiale della seconda stagione questa volta il protagonista francesco demir sembra molto diverso anche viola appare cresciuta rispetto alla prima stagione ecco le prime anticipazioni su quello che vedremo in onda tra pochissimo su canale 5 viola come il mare 2 è arrivato su canale 5 il primo trailer ufficiale francesco demir keny aman sarà molto diverso con viola francesca killemi i due attori nella vita reale hanno fatto sognare tantissimi fan sempre più persone infatti hanno sognato e al tempo stesso sperato che potessero essere fidanzati anche nella vita ma non è così i telespettatori hanno notato che tra i due quando sono in scena c'è una grande intesa e alchimia ma questo non è avvenuto anche nella vita di tutti i giorni eppure ora in tanti non vedono l'ora di scoprire che cosa accadrà nella seconda stagione della tanto amata fiction mediaset prima di scoprire che cosa ci hanno mostrato nella prima clip ufficiale ricordiamo dove eravamo rimasti con l'ultima puntata della prima stagione viola vitale aveva scoperta che suo padre morto attraverso il racconto straziante di don andrea nel frattempo francesco demir è riuscito a trovare la talpa della procura che stava tentando di depistare le indagini sul traffico di esseri umani ha scoperto infatti che si trattava di santo buscemi un suo vecchio mentore e pubblico ministero di palermo quest'ultimo poi finisce per rapire viola ma alla fine francesco riesce a salvarla viola come il mare 2 il primo trailer ufficiale francesco sarà molto diverso la prima stagione poi ha avuto un finale molto aperto infatti alla fine i telespettatori hanno avuto modo di vedere che la protagonista ha rivelato a francesco di non riuscire a vedere il suo colore e che prima d'ora non le era mai accaduto i due si sono ritrovati molto vicini e stavano quasi per baciarsi viola poi decide di invitarlo a cena ma il poliziotto va via improvvisamente con una scusa alla fine sonia la mamma di francesca vuole fare di tutto per incontrare di nuovo il figlio e tornare a palermo vorrebbe infatti parlargli di suo padre ora nel primo trailer ufficiale della mediaset ci vengono mostrati pochi istanti e i protagonisti come sempre sono francesco e viola demir questa volta però sembra essere realmente molto diverso rispetto alla prima stagione per quale motivo semplicemente sembra ancora più innamorato di viola infatti nella prima scena ufficiale vediamo da un lato viola che ribadisce di non voler avere niente a che fare con la cronaca nera lei è una famosa giornalista mentre lui le ricorda che non saranno mai amici si avvicina anche a lei quasi come volesse baciarla e lei resta impietrita insomma dalle prime immagini ne vedremo veramente delle belle